ciao 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 oggi farò provare un gioco a matteo il parkour più facile di sempre in cui tutti lo vincono no raga tutti lo vincono io lo faccio in un secondo perché è strafacile cioè bisogna solo camminare per l'esaltezza no se per matteo è difficile è una pizza comunque matteo è felice il mio video ecco già fatto il primo ora ho quasi finito il secondo c'è raga ho quasi finito il secondo ho finito il secondo sto finendo il terzo però vediamo se per matteo no dai ci dovrebbe essere il check point non c'è il check point quindi e riconnettiti non c'è il check point però ok perché non ce la può fare come si fa questo vai salta ah luigi la visuale non ti va più devi uscire comunque sono a un minuto quindi non ce la posso fare ma matteo neanche ma se la scoglietta di nuovo qua no ora sono al penultimo raga sono al penultimo vai a piegare sotto questo inizio e ho finito raga ma quante vittorie ho scuse ah giustamente per avere la striscia ne avrò cento e qualcosa ok scusate e ci vediamo in un prossimo intanto aiuto matteo perché se no qua non ne usciamo finito finisci il video finisci il video posso giocare a un cicomallo direi all'ultimo vuoi andare via? però ok allora raga negozio no vai via 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 stiamo registrando vai via vai via vai via vai via beh raga cioè che dire ce l'ho voglio giusto vedere quante vittorie ho ma sono grasso 10 ma che grasso sei alto non grasso ma sono grasso ma che grasso che sono grasso e raga però non mi sto sto così in te scusate raga c'è il fratello di Alma che sta rompendo i coglioni dai scherzo 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 dunque raga tre la cosa più bella tre due uno via sei qui sei qui sei qui buuuu è 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 beato per la confusione di mio fratello verrà eliminato sto video credo perché c'è davvero non si può fare un video così soprattutto quando c'è mio fratello quindi questo video che verrà eliminato è beato 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 Matteo che capisce che sto facendo un video almeno è l'unico che capisce che sto facendo un video che non deve disturbare e quindi io lo ringrazio anche se qua davanti a me però almeno ha sentito dunque e dopo quando faremo un altro video vi dirò come mi chiami se l'hai pur detto cosa eh come chiami e no nell'altro nell'altro ora adesso ho venuto tutto il video raga però state tranquilli che no aspetta ho un'idea ho vinto iscriviti al tuo account vecchio iscriviti al tuo account vecchio beh raga e niente questa è la situazione ciao ciao